Il giorno dopo la celebrazione in molte parti d'Italia con il pronunciamento del Presidente del Consiglio sulla giornata internazionale delle persone con disabilità, alcune riflessioni vengono da fare, anche perché oggi dobbiamo stare zitti, non possiamo certamente parlare al referendum, aspettiamo i risultati. Ma quello che viene da pensare è se al di là di alcune convenzioni, di alcune celebrazioni, di alcune scelte che noi possiamo fare nel metterci insieme per dire quello che è giusto e quello che non è giusto, poi in realtà ci viene il dubbio che nei comportamenti quotidiani non siamo conseguenziali alle cose che abbiamo detto. E così ieri abbiamo visto che il Presidente Mastarella ha ricordato e ci ha ricordato il nostro impegno, il nostro rispetto verso le persone che hanno delle diverse abilità e tutti ci hanno ricordato, compreso chi tutti i giorni lavora accanto a queste persone, il nostro dovere di pari opportunità nei loro confronti, la possibilità che queste persone debbano sentirsi uguali agli altri. E noi purtroppo queste cose poi non riusciamo a farle capire, il nostro modo di vivere, non riusciamo a farle capire nelle cose quotidiane. Pensate al ragazzo che in classe inizia a sfottere l'altro ragazzo o l'altra ragazza diversamente abile, magari la scimmiotta, magari non la considera o magari trova la possibilità per mantenere la distanza. Dall'altra parte cosa accade nella vita reale quando noi, senza volerlo magari, mettiamo la macchina dove c'è un passaggio per una sedia a rotelle o quando parcheggiamo la macchina addirittura nei posti riservati alle persone diversamente abili o quando non ci occupiamo di loro, quando non costruiamo la possibilità di farle accedere ai locali pubblici o quando pensiamo che possano fare le stesse file che possiamo fare noi o quando noi garantiamo dei servizi, cioè l'assistenza da parte dei loro familiari o anche la possibilità che queste persone, morti i loro familiari, possano continuare ad avere una vita umana e reale. Ecco, tutte queste cose si scontrano quotidianamente, ieri lo abbiamo visto, toccato con mano, con i tagli di bilancio, con le ristrettezze economiche, con la voglia di dire sistemiamo i conti e i conti vanno sistemati sempre da quella parte lì, dalla parte in cui si fornisce la solidarietà, in cui si fornisce assistenza a queste persone che sono nostri fratelli. Ecco, forse dopo la giornata internazionale delle persone con disabilità dovremmo parlare di queste cose, anzi dovremmo applicarci tutti i giorni per cambiare la loro vita e il nostro modo di vivere.